Salve a tutti, è un po' di tempo che non ci vediamo, perché ovviamente siamo immersi in una campagna elettorale estremamente difficile, però quello che voglio sottolinearvi è che bisogna avere una grande attenzione in questi prossimi 15 giorni e poi il 28 e il 29 marzo. Vedete, io come sindaco devo essere il sindaco di tutti i Romani e voglio esserlo, però non posso non ricordare che questa regione Lazio, come è stata amministrata fino adesso, ci ha creato gravi problemi e non posso non dire a tutti quanti voi, poi ovviamente ognuno farà quello che ritiene, di appoggiare Renata Polverini. Renata Polverini è una persona affidabile, seria, che ha una grande esperienza nel sociale e soprattutto deve essere appoggiata dopo quello che è successo alla lista del PDL. Ora io mi rendo conto di quello che possono essere voci, storie o quello che vi pare a voi, però la realtà vera è che è impensabile che una lista come il PDL non partecipi alle elezioni. Noi proprio dopo questo evento abbiamo moltiplicato la mobilitazione e dobbiamo far convergere i voti sulla lista Polverini e votare il Presidente. È un impegno che vi chiedo con grande attenzione per la città di Roma, per fare in modo che ci sia una svolta politica nella regione Lazio, perché Renata Polverini lo merita.